il quicktime player per la registrazione dello schermo e il microfono del mac come sorgente di input abilitata sempre da quicktime player andiamo a vedere come memo vocali non funziona appena aperto crea una molteplicità di errori che possiamo vedere qui nella console e questa è la cartella dove le memo vocali registrano i suoi file proviamo a creare una nuova registrazione vediamo che si blocca tutto non funziona assolutamente niente viene creato ripetutamente un file con la data e l'ora ma rimane vuoto e non viene riempito la mia voce viene registrata da quicktime player ma memo vocali non funziona se proviamo a modificare una registrazione già effettuata sull'iPad non mi permette di sostituire il testo oppure di riprendere la registrazione vedete comunque non funziona assolutamente nulla quando andiamo a chiuderlo genera altri errori che vengono rilevati dalla console grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione Grazie.